Prima partita, prima goni, non potevamo chiederti di più. Sì, sono contento perché la prima uscita sono riuscito a fare subito il primo cuore con la maglia del fruttore. Sono molto contento per la prima legione 18 che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto nelle giornate che il Miste ci ha richiesto e ci sono tempi. Poi dopo la stacchezza, facendo anche un lavoro importante, ci è finito un po' a mancare anche le gambe. Però sono soddisfatto di questa passazione. Ci fai un'analisi della partita, dal tuo punto di vista? La prima mezz'ora ho avuto un buon possesso di palla, con verticalizzazioni, con un grandissimo movimento. Abbiamo avuto due o tre occasioni, anche subito pronti via con la palla che mi è andata in profondità bassa, che è la palla di portiere. Però ripeto, sono molto contento e fiducioso perché ho visto i ragazzi veramente a topo. Come giudichi la condizione della squadra, la tua condizione? Ho parlato anche con il prof e ho detto che sono molto contento e non mi aspettavo di stare così pieno con le gambe. E anche quella della squadra, ho visto dei ragazzi che si sono impegnati, la condizione è buona perché stia lavorando alla grande, però c'è ancora molto da fare. Adesso abbiamo superato il turno, abbiamo cercato il prossimo, è una buona squadra di Serie B. Noi ce la metteremo tutta perché questa Coppa Italia, questa competizione, noi la vogliamo, anche come il nostro esame per affrontare al meglio il campeonato. Vieni colo! Colo! Grazie!